Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Dopo l'aggressione di un gruppo di fascisti al liceo Michelangelo di Firenze, una preside di un altro liceo, si chiama Leonardo da Vinci, sempre della stessa città, Annalisa Savino, ha scritto una lettera, sia per invitare alla calma, sia per dire che il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone, ma è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. A questo proposito, la preside cita la celebre frase di Antonio Gramsci che è Odio gli indifferenti, perché la preside, a questo il suo appello, invita gli studenti ad essere consapevoli che è in momenti come questi che nella storia i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni. Nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto, scritto, scrive ancora la preside, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta il valore delle frontiere, è un altro passaggio della sua lettera, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare i muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura, senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per ben cento anni fa, ma non è andata così. A questa lettera della preside Annalisa Savino ha risposto oggi il ministro dell'istruzione, Valditara, il quale, intervenendo in televisione, ha detto che si tratta di una lettera del tutto impropria e che non compete ad un preside lanciare messaggi di questo tipo e che il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà. In Italia, infatti, ha spiegato il ministro, non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista e che difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il fascismo, con il nazismo. E si tratta di iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che il ministro auspica non abbia più posto nelle scuole. Quindi Valditara ha minacciato la docente di eventuali sanzioni perché ha detto che se questo atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure. Di fronte a questa presa di posizione del ministro sono in sorte le opposizioni, anche l'ANPI è intervenuta, ma soprattutto i parlamentari. Siamo qui a fare il punto sul fatto politico del giorno con la capogruppo del PD in Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi. Come valuta questa presa di posizione del ministro i fatti che sono accaduti dallo scontro che c'è stato a Firenze tra gli studenti e anche dall'appello alla calma e alla riflessione che è arrivato probabilmente frainteso dal governo da parte di questa insegnante, Annalisa Savino. Noi siamo rimasti abbastanza sconcertati dalla replica di questa mattina del ministro a quella lettera che è una lettera che anzi invita gli studenti ad impegnarsi all'interno della società, a guardare con ottimismo al futuro, a rifiutare ogni forma di violenza. Quindi penso che quel messaggio che la dirigente scolastica ha voluto affidare ai suoi studenti, alle famiglie, al personale sia un messaggio civile, potente e in linea tra l'altro con quelli che sono i valori della nostra Carta Costituzionale. E un ministro che sulla Carta Costituzionale ha giurato al momento in cui ha preso e assunto il suo incarico che oggi ha una reazione scomposta, non condanna in nessun modo quelle che sono gli atti di violenza che ci sono stati, ricordiamolo, all'origine sabato scorso sono stati violentemente picchiati da esponenti di formazioni neofasciste degli studenti davanti al liceo Michelangelo di Firenze. Non ha condannato questo, il governo è stato silente fino ad oggi rispetto a questi episodi e quindi non solo condanna la violenza ma se la prende e minaccia una dirigente scolastica che ha semplicemente in realtà consegnato un bellissimo messaggio che afferma dei valori di impegno e ricorda quella bellissima frase quella bellissima affermazione di Antonio Gramsci di odio gli indifferenti, proprio perché l'indifferenza o anche l'apatia civile che c'è in questo momento che c'è anche rispetto a volte alle generazioni più giovani è forse proprio quello che dobbiamo contrastare e per cui dobbiamo impegnarci. Ci saremo aspettati un'altra reazione, devo dire, dal Ministro. Ecco, ma secondo lei anche qualche tipo di insegnamento possono trarre gli studenti di fronte al Ministro che appunto minaccia azioni contro questa preside, contro questo dirigente scolastico. Insomma, che tipo di messaggio può arrivare a questi studenti non solo quelli che hanno subito le aggressioni ma anche quelli che poi sono scesi in piazza successivamente per protestare? Un messaggio pericoloso di sottovalutazione di quella che è la violenza a cui abbiamo assistito, di sottovalutazione anche di un clima, di un brutto clima che si sente, che si avverte. La violenza va condannata sempre, la violenza politica senza se e senza ma. Però devo dire che questo atto di intimidazione fatto da un Ministro contro una docente, perché poi di fatto è questa la situazione, ci ha molto allarmato, ci ha molto preoccupato e la reazione è stata molto forte. Oggi come Partito Democratico abbiamo chiesto un'informativa urgente, che il Ministro venga in aula a riferire rispetto a queste dichiarazioni. Devo dire che ci piacerebbe anche che la Presidente del Consiglio dicesse qualcosa, stigmatizzasse le affermazioni di questa mattina. Anche perché stiamo vedendo che in queste ore poi gli studenti di blocco studentesco sono scesi a loro volta in piazza con uno striscione proprio di minacce contro questa dirigente. Quindi è plausibile che ci sia poi un'escalation, c'è una dichiarazione violenta che va a far capire come questo messaggio che invece ci sarebbe dovuto essere da parte della politica di riportare alla pace o comunque ad una distinzione del clima non sia arrivato. No, anzi, un Ministro che se la prende appunto con anche una sproporzione di forze politiche, disciplinari in campo, sembra essere quasi un messaggio rivolto alla singola dirigente scolastica ma anche verso tutti i docenti, se vogliamo, gli altri dirigenti scolastici che vorranno affermare o che vorranno esporre pensieri così importanti, devo dire, ricordando tra l'altro anche, e su questo insomma non possiamo negare, i fatti tragici della storia del nostro paese. Quella lettera si apre con un'affermazione molto potente. Il fascismo è nato da un marciapiede, da singoli atti di violenza, è la storia che ce lo raccontano, non sono opinioni personali. Ci sono stati episodi di violenza ripetuti prima che il fascismo andasse al potere, ripetuti in tante parti d'Italia, che non andavano sottovalutati e rispetto al quale la maggioranza silenziosa forse non doveva rimanere indifferente. Quindi penso che è una soglia di attenzione civile che dovremmo mettere in campo in questo momento. Ecco, sto vedendo che insomma tra le varie reazioni ne sono arrivate molte, anche da parte dell'ANPI, che ha parlato di parole inaccettabili e da parte di tutta una serie di esponenti dell'opposizione, anche il segretario del suo partito, Enrico Letta, ha addirittura lanciato questo hashtag, grazie ai preside Savino. Quindi proprio a sostegno di questa preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, che oggi è stata criticata dal ministro dell'istruzione. Ecco, io volevo capire, avete già chiesto al ministro di venire a riferire in aula, ma pensate di mettere in campo altre azioni o comunque di aprire un dibattito su quanto è successo? Insomma, in che termini? Noi esigeremo, continueremo anche negli uffici di presidenza, quindi oltre ad averlo affermato in aula, a chiedere con urgenza che il ministro venga in aula e quindi sulla base anche di questo tipo di risposta alle nostre sollecitazioni cercheremo appunto di essere molto vigili e reclamare una risposta, proprio perché è un'affermazione completamente, non solo fuori luogo, ma sproporzionata grave rispetto a quello che si è verificato e rispetto soprattutto a una sottovalutazione secondo me degli atti di violenza che ci sono stati nei giorni scorsi rispetto al quale attendiamo ancora che il governo batta, attendevamo oggi diciamo non che il governo battesse un colpo. Grazie.